A Rezzo TV per Teleton, non solo la nostra emittente ma anche le altre emittenti aretine, porteranno questa sciarpa durante la settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca. Devo dire che il comitato aretino che lei presiede ha organizzato davvero tantissime iniziative, una cena di gala, una camminata, insomma una pedalata in bicicletta, io non sono molto sportiva, si vede, ma la pedalata però la devono fare gli aretini per sostenere Teleton. Sì dunque allora, prima di tutto devo ringraziare questa emittente e tutte le altre emittenti aretine per averci concesso questo onore di leggere perlomeno i notiziari durante tutta la settimana in cui la RAI e Teleton hanno organizzato dopo 25-26 anni questa maratona televisiva. E per tanto intendo subito ringraziare sia questa emittente che tutte le altre televisioni aretine, è una bellissima iniziativa e ne siamo fieri. Per quello che riguarda le iniziative, allora il 15 giovedì prossimo abbiamo una scena di gala presso la sede della Casa delle Energie dove abbiamo invitato sia le autorità civili, militari, tutto il mondo imprenditoriale per essere presenti a questa scena per promuovere ovviamente la sensibilizzazione sulle malattie genetiche rare e per quello che riguarda soprattutto la raccolta fondi. Poi altre iniziative subito a seguire il 17 e il 18 di questo mese sempre sabato e domenica saremo su nove piazze aretine con circa 100 studenti di tre istituti aretini per la vendita dei cuori di cioccolata di Teleton. E la domenica mattina, cosa molto carina e per la prima volta ad Arezzo, su idea di un volontario Teleton abbiamo organizzato una pedalata aperta a tutti coloro che vogliono partecipare indistintamente dal sesso, dall'età, dall'estrazione sociale, indipendentemente dalla bicicletta che possono avere o possono utilizzare dove percorreranno circa 8 chilometri di strade aretine sicuramente con la presenza di Rinaldo Noscentini che sarà l'uomo immagine di questa iniziativa. E niente, questo è quanto in questo momento abbiamo organizzato. Poi la nostra maratona aretina, come l'abbiamo definita noi, si concluderà il 6 di gennaio prossimo, dove Alteatro Petrarca e tre scuole di danza aretine hanno organizzato uno spettacolo di danza per devolvere fondi a Teleton.